Accuse pesantissime all'indirizzo del sindaco e del centrodestra tutto, accuse tanto pesanti che alla fine il primo cittadino di Sarno, Amilcare Mancusi, ha chiesto ai carabinieri l'acquisizione delle trascrizioni senotipistiche dei lavori. È accaduto ieri sera in consiglio comunale a Sarno ad accendere il dibattito, rendendolo a tratti addirittura incandescente l'argomento all'ordine del giorno, lo stato dell'arte sul PUC. Seduta chiesta ed ottenuta dalle forze di opposizione a formulare le accuse Antonio Russo, consigliere comunale del Partito Democratico, nel suo intervento un messaggio inconfondibile. Al suo dire il centrodestra Sarno avrebbe creato un vero e proprio sistema per nascondere il vero obiettivo, non fare arrivare mai al capolinea il piano regolatore, vivendo in un limbo fatto di favori e connivenze. Non essendoci addetto nulla di politico in tutto questo, subito le dimissioni dell'assessore. Da qui la richiesta di Mancusi di acquisizione della trascrizione tutta da parte dei carabinieri. A fare il punto della situazione era stato ad inizio lavori l'assessore Valerio Musco, che nella sua relazione aveva parlato della recente convenzione con Agroinvest per tre tecnici esperti, della nomina quale consulente dell'architetto Nicola Vitolo, già reggente dell'ufficio tecnico provinciale, della costituzione di un ufficio di piano a Palazzo San Francesco. Il primo ad andarci giù duro era stato il consigliere comunale di centrosinistra Raffaele Franco, che aveva rimarcato quanto, dopo il licenziamento di Boeri, l'amministrazione sarnese abbia perso solo tempo e sperperato Danaro per fare quello che in realtà chiedeva anche Boeri, ma che non gli era mai stato concesso. Arringa, affidata da Milcare Mancusi, che ha ricordato come al suo insediamento, nonostante il PDL glielo avesse chiesto, non aveva revocato l'incarico a Boeri, dovendo poi invece prendere atto del fatto che l'intero staff che Boeri aveva alle spalle, di colore politico opposto al suo, lo coadiuvava nel contrastare il lavoro della nuova amministrazione comunale, targata centrodestra. Ci eravamo presi con un atto di indirizzo degli obiettivi che credo stiamo mantenendo con una cadenza temporale consentita a quella che è un'amministrazione, una burocrazia che ha dei tempi da dover scontare. Da poco si è chiusa la gara per l'aerofotogrammetria, ho già mandato articoli di stampa che nel mese di aprile vi saranno i voli sulla città per testimoniare lo stato dell'arte ed evitare che vi sia, col controllo incrociato, un abusivismo non denunciato, quindi una mappatura. Abbiamo chiuso la commissione con Agroinvest che prevede l'utilizzo di geologi e altre figure professionali che erano di contorno al lavoro della commissione Chieste già da Boeri, queste cose erano chieste già da Boeri ma le faremo con un'economia di spese all'interno dell'ufficio, dopodiché con l'atto di indirizzo già votato in consiglio l'ufficio raccogliendo gli elementi tecnici, le tavole che la legge regionale richiede potrà in un tempo stimato più o meno di 5-6 mesi elaborare una bozza di piano da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comune.